l'istituto cap florence dei fratelli monfortani di san gabriele è situato in via dei fiori 1 nel comune ed istrana il complesso è un'oasi di pace di spiritualità di ospitalità immersa nel verde dove si respira aria fresca e pura dalla statale si possono vedere i campi arati che fanno da contorno a tutte le strutture c'è un campo dedicato ai giochi e che si presta anche a qualche partita di calcio un campo per le partite da basket numerosi parcheggi per le vetture sotto agli alberi e un lungo viale di tiglie mentre dietro a un boschetto si trova un laghetto con i pesci per allietare i bambini tutto l'anno le famiglie con bambini sposi gruppi parrocchiali gruppi vari dei movimenti scout trovano accoglienza e ampio spazio per le loro attività all'interno e all'esterno all'ingresso di via dei fiori su un cortile accogliente si affacciano l'ufficio delle adozioni a distanza la cappella per i momenti di preghiera l'edificio che ospita la cucina e la sala da pranzo e la struttura con la sala Don Marino ex scuola dell'infanzia che offre sale di riunioni per gli adulti e sale per i giochi interni per bambini da qualche anno è stata costruita e progettata una via crucis che si trova vicino alla grotta della Madonna di Lourdes da ultimo il complesso offre l'ampia sala monfortana che può ospitare fino a 300 persone all'istituto Caflorenz si trova la sede operativa della procura generale dei fratelli di San Gabriele che gestisce la grande opera delle adozioni a distanza in India, nelle Filippine e in Tanzania venite, vedete, parlate e aderite all'opera delle adozioni a distanza Dio vi benedica